La testa di Orfeo, separata dal corpo, chiude gli occhi al mondo e gli apre alla visione. Non cessa però la sua pena e il suo canto non si interrompe. Per averci invitato ad accogliere questo richiamo, a guardare al dolore del vivere con sorriso assonnato, a viaggiare con vorace e smemoratezza, ingozzandoci di fiori e quintali di tartina al salmone, in compagnia di giovani feriti e bellissimi, alla ricerca di un sapore che pare perduto. Per averci insinuato che la memoria è lo scandaglio del nostro presente, ma scordare è un atto rivoluzionario quanto cercare risposte da una sitcom camp o consigli da gatti risentiti. Per averci immersi in un ciclo di letargie e risvegli che respira i tratti del reale e affoga l'immagine nel sogno. Per averci obbligato a resettare i nostri sensi e le nostre costruzioni, dimostrando che un cinema radicale e svergognato è sempre possibile, anzi necessario, il premio del circolo del cinema di Verona va al film Beth Blond di Maxima III e Alexa Walter. Grazie mille. 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 Grazie. 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 Sono davvero felice di consigliare questo premio film Still Recording di Saeed al-Batale, Ghab Ayo, due giovani cineasti che documentano l'orrore della guerra in Siria e di come la vita dei siriani sia stata e sia tuttora sconvolta. Still Recording, un documento estremamente importante su quello che sta accadendo in Siria, si basa sul lungo ed occurato lavoro di montaggio di moltissime scene che vanno da quelle di combattenti a quelle di cittadini che cercano, malgrado tutto, degli scampoli della malità epotidiana. Il premio prende il nome da Mario Serandrei, un grande montatore, lui ha già detto tutto, ed era primo cugino del nonno paterno, figlio di chi nel lontano 1908 fondò una locanda di sole otto camere che col tempo è cresciuta ed è diventata la terza turnia. Grazie, grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Due anni fa, il tempo vola, non me ne ho accorto, quest'anno per la prima volta questa sezione è diventata competitiva e ad assegnare i riconoscimenti sono stati i nostri colleghi della settimana internazionale della critica di Berlino a cui abbiamo affidato questo polpico. Io chiamo Michael Hack qui con me. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Il primo riconoscimento è il premio al miglior contributo tecnico, effetto dalla fondazione Fare Cinema e consistente nella partecipazione all'edizione 2019 del corso di alta formazione cinematografica in regia Fare Cinema. Il premio è stato attribuito a quelle brutte cose di Lodice Giuseppe Nese per il montaggio. Grazie. 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.